Buonasera, buon torneo della trasmissione di prima. Allora, per scendere io, volevo presentarvi un grandissimo, a parte della musica, un grande, forse l'uomo più tattoso del mondo, che cosa ne pensi tu? Ciao, che hai fatto? Mi sa che non si sente tanto bene, perché prima ci siamo tirati le strisce pedonali, per rimanere qua. Allora. Perché altro sembri sardo? Ah, no, no, no. Mi ha fatto un po' gutergo, perché sai guterga e non sai guterga, non sai guterga e non sai guterga. Eh, io ho dovuto fare questo intervento, con un chirurgio. Chirurgio? Che lingua è? Perché? Io volevo dire una cosa sola, che quando ho fatto non volevo essere io, hai capito, tu che stai guardando da casa e probabilmente ti chiederai chi sono questi due che stanno parlando, anzi uno solo, allora il discorso nasce spontaneo, perché se ognuno di noi pensa che il microcosmo che ognuno ha dentro di stella, la risposta è love, 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 ti amo, ti amo, ti amo, one, two, no. Allora, io questo amico lo stimo, lo rispetto molto, perché c'è non solo quello di un gittà, i sociali, vi giuro, eccolo qua, questo è lui, di altro. Non mi ha piaccio il caffè. Non mi ha piaccio il caffè.